ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi è il primo appuntamento per quanto riguarda il decluttering ebbene sì ho iniziato a fare il decluttering e aiuto vi chiedo aiuto perché non ce la faccio più allora come primo video vi lascio al video delle palettine quindi il decluttering delle palettine quante ne avrò quante ne avrò buttate e quante ne avrò regalate quindi godetevi il video noi ci vediamo alla fine ciao ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi faremo il decluttering per quanto riguarda palettine io ne ho un bel po perché faccio la una collezione di palette quindi alcune le tengo proprio per collezione e altre invece li posso togliere o perché sono vecchi oppure perché non non hanno più una scrivenza ottima quindi non prendete spunto da me perché io la maggior parte li colleziono e poi volevo dire che quello è regalato ovviamente non li tolgo perché sono dei regali quindi ci tengo tantissimo iniziamo subito io nel frattempo ve li faccio vedere questi sono la serie di neve cosmetics ne posseggo quattro e sono le palettine che c'erano prima cioè che come si dice queste sono le palettine di neve cosmetics che sono uscite un po un po di tempo fa li utilizzo ancora perché come vedete sono abbastanza scriventi quindi io mi ci trovo bene allora ve li faccio vedere così velocemente questa è la prima ed è chiarissima ed è questa poi abbiamo intensissimi ed è questa poi abbiamo scurissimi ed è questa e infine abbiamo elegantissimi che è questa che mi piace tantissimo e la utilizzo per quanto riguarda queste quattro palettine di neve le cosmetics a me piacciono quindi rimangono con me li metto tutti qua dietro e poi li sistemo alla fine poi andiamo avanti e qui ho una palettina di zoeva che si chiama electric ice e devo dire che mi piace anche questa e quindi questa la tengo come ovviamente tengo l'altra sorellina di zoeva che è questa qui che è la taupe dove ci sono tutti i colori che a me piacciono tantissimo e quindi la tengo ovvio qui abbiamo le naked naked 3 la smoky l'originale naked e la naked 2 sinceramente di queste tengo tutte e 4 perché faccio la collezioni come vi ho detto e quindi le ho prese non sto comprando altro per quanto riguarda la urban decay perché non mi piace proprio come tipologia però ormai ce l'ho e quindi queste me le tengo questo ovviamente è l'originale la conoscete tutti si vede bene si questa è la 2 questa è la 3 e questa è la smoky e queste le tengo tutte allora andiamo avanti e vi faccio vedere le palettine queste piccole di Kiko che sono queste che mi piacciono tantissimo e le tengo una è questa e l'altra è questo colore qua queste le tengo perché sono comode da portare in viaggio e tutto per quanto riguarda questa io ce l'ho queste le ho prese quando fu un po' di tempo fa che sono queste ma io la posseggo nell'edizione limitata che sarebbe questa vedete è uguale quindi questa la tengo e la finisco invece questa qui la regalo perché intatta non è stata nemmeno toccata quindi le rimetto qua dentro allora poi qui abbiamo le Uda queste sono le tre Uda le mie preferite ovviamente io li tengo sempre confezionati perché mi piace tenerle proprio così e queste sono la rich la medium medium e la light e la light queste ovviamente le tengo tutte e tre sono le mie preferite per quanto riguarda Uda Beauty è inutile farvele vedere queste sono le altre queste sono quelle piccoline i quad di quattro e li posseggo tutti questa è la Mav la Move però ancora non ho fatto un make up tutorial questi piano piano ve li farò vedere tutti e queste è inutile aprirveli ma li tengo tutte perché mi piacciono tantissimo poi andiamo avanti ci sono queste due di Kiko della Pop Revolution e queste sinceramente non le ho ancora nemmeno utilizzate quindi queste le tengo con il dischetto così queste le tengo perché ancora non le ho nemmeno utilizzate una è questa e l'altra è questa questi sono stati acquisti fatti tramite Fabiana perché mi ha consigliato di prendere questi ombretti e quindi sono molto molto belli come mi ha consigliato questi sono andata a prendere anche queste due palettine che erano super super scontate di Wicon dove abbiamo questi colori una è questa e l'altra è questa qui che se non mi sbaglio è quella proprio identica a quella di Fabiana e ancora li devo utilizzare quindi per questo non vi faccio sapere niente li utilizzo e poi vediamo se mi piacciono oppure no e questi ovviamente li metto di lato perché questi li tengo sempre con il punto interrogativo se mi piacciono o non mi piacciono poi andiamo da Anastasia Anastasia sapete tutti che io adoro queste palettine e quindi l'altra dov'è? eccola qui queste sono le palettine di Anastasia ovviamente li tengo tutte e quattro perché mi piacciono tantissimo e io le adoro queste non le posso cambiare assolutamente non le declattero assolutamente poi un'altra palettina che io adoro è la New Nude di Huda Beauty sapete tutti che è una bellissima palettina mi piace troppo e la tengo e l'altra palettina che tengo questo è un regalo della mia migliore amica quindi ovvio che vi ho detto i regali li tengo e quindi ovviamente la tengo perché mi piace anche metto di lato poi andiamo avanti e qui ho una palettina di Avon proprio vecchiotta 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 e è una palettina di questo tipo che io ho utilizzato un sacco di volte ma adesso i colori sono proprio poco 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 scriventi specialmente quelli chiari vedete nemmeno si notano si notano di più quelli scuri quindi questi invece di buttarli io a differenza di altre persone ho delle nipotine quindi andranno per giocare con Noemi e Alessia andiamo avanti e qui ho due palettine di Kiko queste sono in edizione limitata e non mi ricordo se erano dell'anno scorso o dell'anno precedente e sono queste palettine io non le ho nemmeno utilizzate perché queste qua io le avevo comprate scontate per dei giveaway che avrei fatto poi sono successe varie cose quindi non le ho potute fare ovviamente sono diverse non sono state utilizzate quindi questi li metterò in palio in palio perché ho intenzione di premiare qualcuno e regalare tutte queste cose che io ovviamente non utilizzo anzi a proposito scrivetemi nei commenti se vi va anche dei giveaway per prodotti che diciamo sono stati utilizzati svocciati o altro così da regalarli perché io ovviamente non me ne faccio niente quindi queste le metto per dei giveaway quindi li tolgo poi andiamo avanti qui ce n'è una di Kiko che è questa è la mia preferita mi piace tantissimo specialmente per questo azzurrino qua che scrive proprio malissimo infatti proverò a fare qualche cosa per consumarla almeno tre ombretti su quattro e poi in caso se non va bene la regalo alle mie nipotine piccoline poi andando avanti questa qui di Kiko questo è stato un regalo della mia migliore amica quindi ovviamente la tengo mi piace anche tanto poi questa è una delle ultime palettine acquistate e ovviamente la tengo perché ancora nemmeno sono riuscita a fare un make up quindi assolutamente la tengo ecco poi questa è una palettina di Carly Babel o Bible come si legge ed è una palettina compresa di illuminanti qua nella parte di sotto e ombretti l'ho messa qui nella parte delle palettine per occhi ma sinceramente io la tengo per tutte e due le cose anche gli illuminanti sono veramente una cosa spettacolare cioè guardate qua che illuminante e quindi la tengo poi andiamo avanti qui c'è la palettina di Mulac che sapete tutti che a me piace anche se non utilizzo proprio questi marroncini preferisco di più quelli di Uda come colore e tutto però ci sono ad esempio dei rossi degli ombretti che posso ancora utilizzare questa la metto in stand by vedo di utilizzarla un paio di volte se proprio non mi è grada diciamo come colore e tutti la regalo a mia sorella perché mia sorella Loredana super giù queste tonalità gli piacciono e quindi le regalo a lei poi ho queste due di Smashbox che ho utilizzato solo un paio di volte e sono ottime come palettine questi sono gli ombretti devo dire che sono molto buoni come ombretti come scrivenze e tutto e questa è la mia preferita tra le due ed è questa si vede che è un po' utilizzata e quindi le tengo tutte e due perché mi piacciono mi piacciono come palettine poi andiamo avanti Carmi Mua ovviamente ovviamente questa la tengo io conservo le scatoline perché essendo che sono messe fuori non sono messe nei cassetti sono messe nelle espositori che poi vi farò vedere perché sistemeremo anche quelli io li tengo nelle scatole perché poi ci va la polvere e mi dà fastidio alcune sono nelle scatole altre no come vedete questa è un bel po' utilizzata perché è una palettina che mi piace specialmente per tutti i giorni ed è ottima sia come pigmentazione sia come prezzo perché è costata pochissimo poi andiamo avanti e c'è questa qui di Slick ce ne dovrebbe essere anche un'altra e questa se mi sbaglio è quella più utilizzata aiuto quanto è sporca e questa vedete è molto shimmer questa qui l'ho utilizzata di più nel periodo natalizio con tutti questi colori cercherò di utilizzarla se posso perché è una palettina che mi piaceva tanto se in pochissimo tempo che so in un mese massimo non la utilizzo la regalo e la metterò nei giveaway per quanto riguarda prodotti sbocciati e utilizzati andiamo avanti questa è una palettina che ho utilizzato tantissimo che è della Kiko se non mi sbaglio ce n'ho anche una nuova di questa qui perché ne avevo comprate due l'ho preso una l'avevo preso normale cioè il prezzo normale l'altra l'ho presa scontata e in caso quella ve la metterò nei giveaway ed è questa palettina qua di Kiko a me piacciono questi colori perché sono i colori che io di norma utilizzo di più e quindi mi piacciono questa la tengo la metterò qui nella postazione per utilizzarla per sfumare qualche ombretto vedete qua alcuni sono già scavati come colorazione è ottima infatti mi piace tantissimo andiamo avanti e andiamo per questa palettina di Nars che ancora non sono riuscita a utilizzarla ed è questa palettina qua scusate il riflesso ma c'è la luce ovviamente e questi sono gli ombretti questa ancora la devo utilizzare ma alcuni li posso anche utilizzare come illuminanti quindi la tengo qui ma per me vale anche doppia quindi questa la tengo ovviamente come tengo quella in edizione limitata di Kat Von D questa è la Metal Matte che è grandissima stupenda ha tutti i colori matt nella riga di sotto invece tutte queste nella cialdina rotonda sono tutte matt e a me piacciono tantissimo e poi è un'edizione limitata non posso regalarla la stessa identica cosa sempre per questa la Pastel Got sempre di Kat Von D ed è stupenda perché ha tutti questi colori belli pastellosi che io adoro in assoluto andiamo da questo lato dove abbiamo la Blood Lust di Jeffree Star scusate lo so che alcuni non vogliono sentir parlare di Jeffree Star però io ce l'ho la palettina e ve ne parlo questa è la palettina l'ultima che è uscita sapete tutti che mi piace tantissimo certo è caduto che mi piace tantissimo e quindi questa la tengo perché fa parte di una collezione quindi io le colleziono e la tengo assolutamente poi un'altra palettina che ancora è da poco che ce l'ho infatti la devo ancora utilizzare è questa la 24 Artist Pass di Morphe e ovviamente ancora la devo utilizzare quindi la tengo perché è stupenda bellissima ha dei colori fantastici quindi ovvio che la tengo allora continuiamo per quanto riguarda sempre le collezioni questi sono le palettine di Jeffree Star io ce l'ho quasi tutte ovviamente quindi le tengo questa è la Blue Blood sono nelle confezioni sono una è questa la mettiamo qua di lato un'altra è Androgeni che è questa vabbè ve la faccio vedere queste che si aprono così ve la faccio vedere aia queste è Androgeni che è questa la Blood Sugar che è questa queste sono edizione limitata quindi facendo collezione non posso che non tenerle e poi abbiamo la Beauty Killer che è questa ottime tutte mi piacciono tantissime quindi queste non ho propria intenzione di toglierle di deglattarle nessuno allora questa è una palettina di Aliexpress questa l'ho presa da Aliexpress e sinceramente la tengo soltanto per esposizione perché gli ombretti si scrivono ma scrivono proprio pochissimo e la tengo qui per quando viene la mia nipotina e ci gioca perché non è una palettina che mi piace poi è di Aliexpress quindi sinceramente sto un po' così nell'utilizzarla poi andiamo avanti questa è della Makeup Obsession e sinceramente questa la sto utilizzando l'ho utilizzata per un compleanno ho fatto un make up particolare e ancora la devo utilizzare quindi questa la tengo ovviamente invece per quanto riguarda questa qui di Essence è nuova senza utilizzata e sinceramente non io l'ho presa soltanto perché costava poco e perché la volevo mettere in un giveaway quindi sicuramente la metterò in un giveaway perché non sono colori che a me piacciono poi qui abbiamo la Naked Basic e la Naked Basic 2 allora per quanto riguarda queste sinceramente io la Naked Basic la metterò in un giveaway perché oltre che vabbè non so nemmeno se metterla in un giveaway perché è appiccicosa ma questa non l'ho nemmeno utilizzata perché non mi piacciono questi colori io l'ho presa perché tutti la prendevano e quindi è stato il periodo dell'inizio diciamo del canale tutti l'avevano presa e quindi l'ho voluta prendere ma sinceramente è appiccicosa quindi non so nemmeno se metterla in un giveaway fatemi sapere voi perché è originale ovviamente perché se no la darò a mia sorella e la tiene lei ma sinceramente è appiccicosa al massimo quella invece che io preferisco è la Basic 2 e infatti ha i colori che a me piacciono e questa ad esempio a differenza dell'altra non è appiccicosa e questi sono i colori che Supergio a me piacciono perché sono colori freddi e io l'adoro questa poi andiamo avanti e qui abbiamo delle palettine qui abbiamo delle palettine della Mouac Academy questa era il dupe di una palettina di non mi ricordo era con la cerniera non mi ricordo di che marca in caso ve lo faccio sapere e questa è la palettina ovviamente come si nota non è stata nemmeno toccata nemmeno la matita perché non l'ho mai utilizzata quindi questa farà parte di un giveaway questa invece per quanto riguarda Revolution è una palettina sempre dupe per quanto riguarda una più famosa se non mi sbaglio sempre delle Naked quelle tutte colorate ma a me non piace proprio non piacciono i colori se non mi sbaglio alcuni li ho sbocciati non mi piacciono quindi se vi va e siete d'accordo per il giveaway di prodotti utilizzati come adozione io la metterò in palo palio palio non lo so dire un'altra palettina che vi faccio vedere è questa è della Lorac Promo non è originale perché io l'ho presa da AliExpress gli ombretti sono molto pigmentati a differenza di quella che vi ho fatto vedere poco fa e questa l'ho utilizzata tantissimo specialmente quando faccio dei trucchi particolari per quanto riguarda Halloween perché ho fatto tipo il malva questo il nero comunque sono degli ombretti che ho utilizzato questa la metterò in palo perché non mi piace più quindi non la sto utilizzando e quindi la tolgo poi di queste sinceramente della Kiko ne ho queste forse ce n'è un'altra e sinceramente non so che fare perché sono degli ombretti che a me piacciono tantissimo perché sono degli ombretti che io utilizzo proprio il colore che io utilizzo questi li metterò in stand by se vedo di non utilizzarli nell'ultimo mese li toglierò e li metterò sempre in un giveaway poi questa è l'ultima palettina che ho preso per quanto riguarda Ofra io non ho questi ombretti quindi ancora li devo utilizzare quindi ovviamente la tengo la metto qua poi la Frick Show la Frick Show di Mulac io l'adoro quindi la tengo la stessa identica cosa per quanto riguarda questa con i colori freddissimi quindi la tengo come tengo le Natasha Denona per quanto riguarda le piccoline perché sinceramente sono ottime di questa ancora vi devo fare vedere il video make up e quindi le tengo tutte e due le ho prese di recente quindi ovviamente li tengo come come tengo ovviamente quelle di MAC perché mi piacciono tanto questa ancora non vi ho fatto vedere un make up ma è molto molto bella come palettina mi piacciono tantissimo questi colori li volevo utilizzare già avevo fatto un make up mi è piaciuto ma non l'ho registrato la stessa identica cosa questa io faccio la collezione anche per quanto riguarda palettine di MAC quindi ovviamente la tengo anche questa poi andiamo ad astra e questa qui ovviamente la tengo la sto ancora testando sto facendo dei make up devo fare un make up con i verdi perché li ho swatchati mi sono piaciute quindi voglio vedere come posso realizzare qualcosa con il verde quindi la tengo ovviamente poi abbiamo una delle cutie palette questa ancora non l'ho utilizzata perché ve l'ho fatta vedere ancora nel video di acquisti per quanto riguarda sephora non so veramente se ve l'ho già fatto il video ma comunque è una palettina molto bella con i colori che io gradisco tantissimo e quindi ovvio che la tengo poi andiamo avanti avviciniamoci qua perché siamo nel finire almeno credo queste sono le ultime palettine che posseggo allora questa è una palettina di Clio questa l'ho tenuta perché sinceramente ci sono affezionata questa l'ho presa non mi ricordo se è stata da trucchina 100 oppure le onoravanne all'inizio quando hanno rivenduto alcuni prodotti io lo ho acquistato è tutta appiccicosa e ha dei glitter vedete perché si è un po' rovinata questi sono i colori come scrivenza è tutto ovviamente scrivono pochissimo e quindi questa essendo che ci sono molto affezionata la regalo alle mie nipotine così possono giocare e truccarsi a vicenda poi un'altra palettina di Kiko è questa a questi colori sinceramente questi non li ho utilizzati l'ho soltanto sbocciato come si vede questo qui e questo questi possono essere utilizzati sia asciutti che bagnati quindi questi li regalo lo metto qua che poi li tolgo l'altra palettina di Zoeva una è questa che se non mi sbaglio è quella che ho utilizzato sì per truccarmi una è questa che mi piace tantissimo l'ho già utilizzata infatti non so se tenere questa o l'altra in caso vediamo una delle due le regalo quindi questa la tengo perché mi piace e questa invece la metterò come regalo perché questi colori sinceramente non mi piacciono e poi ce l'ho anche in altre palettine quindi li tolgo è molto carina questa l'ho trovata nel calendario dell'avvento se non mi sbaglio però è molto molto bella devo dire molto molto bella questa andiamo avanti ne troviamo un'altra per quanto riguarda Avon non vi sto sbocciando niente perché sennò diventa troppo lungo il video questa è un'altra palettina per quanto riguarda Avon cioè sporchissima è tutto ma non ci fate caso e questi ombretti sinceramente non non scrivono più questo è un azzurro ma non scrive più quindi questa la regalo alle mie nipotine poi e questa è un'altra delle palette di Slick prima tutte le avevano perché facevano anche la collezione se riesco senza rompermi un'unghia aspettate io rischio veramente le unghie ed è questa palettina qui anche questa è la stessa identica cosa se riesco a utilizzarla in pochissimo tempo se no la regalo perché sinceramente è da un bel po' che ce l'ho e l'ho utilizzata pochissimo poi questa è una palettina da collezione che ho preso da una ragazza che l'ha venduta di seconda mano e sinceramente è una palettina da collezione quindi vorrei tenerla ma metterò il punto interrogativo perché di alcune proprio mi piacciono come quelle di jeffree star mi piacciono molto i pigment e tutto urban decay già sto tenendo le naked quindi di questa metterò il punto interrogativo sinceramente perché non lo so esattamente se la voglio tenere oppure no quindi questa metterò il punto interrogativo comunque la feritopia se non mi sbaglio ci dovrebbe essere scritto comunque dovrebbe essere questa la feritopia comunque la metterò con il punto interrogativo poi ovviamente abbiamo le le palettine di Nabla dove abbiamo la Dreamy scusate abbiamo la Dreamy abbiamo la Dreamy 2 la Sublooming e la Poison Garden queste rimangono tutte perché sono le mie preferite e rimangono assolutamente poi qui abbiamo la palettina quella grande per quanto riguarda Kiko e anche di questa sono lì per toglierla la metterò anche questa in stand by ma in base ai colori che ci sono sicuramente la declattero perché oltre a queste che vedete ci sono altre cialde nei cassettini questi così quindi non so cosa farne sinceramente andrò a dare un'occhiata li sbuoccerò con le altre cialdine così in caso le cialdine le regalo e questa la tengo devo valutare un po' la situazione poi qui abbiamo una palettina che se mi sbaglio si è stata fatta da me dove ci sono tutti questi colori e questo ovviamente la declattero ci sono colori che possono essere utilizzati come illuminanti sono molto molto belli però sinceramente questa è proprio l'ultima palettina che io prendo quindi la tolgo direttamente poi qui abbiamo una palettina di Paula P io l'ho deputata qui della Neve Cosmetics perché l'ho presa quando il packaging era di plastica quindi non era ottimo come packaging e quindi questi sono gli ombretti sono molto sono molto ma molto scriventi devo dire che sono i migliori in assoluto che posseggo come ombretti sono molto molto buoni quindi questa la tengo poi abbiamo palettina di essence nel frattempo li polisco la palettina di essence con gli ombretti di essence e anche questa la depotto depotto scusate la declattero perché non utilizzo questi ombretti alcuni sono già utilizzati un bel po' e altri è difficile che prendo questa palettina in poche parole quindi questa la tolgo poco fa avevo detto la depotto ma capitemi che era declattero un'altra palettina di essence dove ci sono questi pochissimi ombretti anche questa è la stessa identica cosa la regalo o la prendete così per come poi ovviamente vi metterò delle cose oppure la regalo a mia sorella a mio nipote eccetera eccetera quindi questa poi andiamo in questa questa sinceramente l'ho utilizzato un paio di volte l'eyeliner è sigillato cioè non ho mai utilizzato queste liner quindi l'eyeliner è sigillato non ho mai aperto perché non lo so mettere quindi non l'ho mai aperto questa è una palettina di mulac sarebbe la prima che è uscita allora la posso tenere come collezione ma sinceramente è una palettina che cioè non prendo non tengo non non me ne faccio niente e sinceramente non è una di quel packaging che è proprio impazzisco quindi questa la la declattero la stessa identica cosa questa qui della limit edition di essence questo è un pack molto molto particolare così e qui nel cassetto troviamo i prodotti anche questa non è stata toccata ha due pennelli si ha due pennelli poi tutti i ombretti e delle cose in crema dei pot in crema sinceramente non l'ho mai utilizzata e quindi questa la metto nel decluttering poi questa è un regalo è stato uno dei primi regali della mia migliore amica per quanto riguarda le palettine infatti la tengo proprio sigillata e questa è la device 2 è una palettina che tutti amano io la tengo soltanto perché è un regalo perché è una palettina che non sto utilizzando e che mi viene difficile prendere però visto che mi sto mettendo a truccarmi sto facendo dei make up abbastanza particolari chissà che non prenderò questa quindi questa ovviamente la tengo la lascio qui e poi ci sono queste altre due della sicilian notes che sinceramente ancora non so se tenerle oppure no hanno anche la plastichina queste sono le palettine e queste sono le gel dall'interno sinceramente non so se tenerle oppure no questa è una e questa è l'altra perché queste sono in edizione limitata poi essendo della sicilia quindi della mia terra li vorrei tenere fortunatamente tutte quelle che vedete delle edizioni limitate io le ho prese tutte scontate quindi non ho avuto nessun problema nel cioè non ho nessun problema nel regalarle perché le ho prese proprio scontate alcune palettine le ho prese anche a 6 euro a 4 euro a 2 euro e 50 quindi considerate che non ho fatto una spesa per questo ne vedete due di marca eccetera eccetera è uguale perché le ho prese proprio pochissime specialmente queste qui della Kiko quindi per queste ancora le tengo e poi in caso nel prossimo decluttering vi farò sapere se le tengo oppure no allora ragazzi questo è il video per quanto riguarda le palette come avete visto ci sono delle palette non utilizzate quindi ancora chiuse delle palette che non mi piacciono e altre cose che toglierò perché ovviamente sono già un bel po' scadute e tutto ovviamente tenete d'occhio il mio instagram perché ci sarà una combo tra i due social quindi tra youtube e instagram e vi farò un piccolo diciamo giveaway un piccolo regalo ad alcune di voi quindi cosa dirvi di più tenete d'occhio il mio canale e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video o spolliciate e se vi va non ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.